Che cosa succede con il decreto rifiuti? La maggioranza sta vivendo delle ore di tensione? Ore difficilissime perché questo è un decreto che doveva cercare di sanare il fallimento delle politiche del governo Berlusconi, decreto debole che noi avremmo anche collaborato a rinforzare, ma che per l'ostruzionismo della Lega e per i problemi all'interno della maggioranza molto probabilmente non si riuscirà a discutere in Parlamento e quindi non riuscirà a portare beneficio e ristoro a una situazione drammatica della Regione Campania.